Sono da chiarire le cause dell'incendio che questa sera ha danneggiato un'abitazione storica cumiana, imborgata a Villanova, casa Fortelletto. Il fuoco è divampato nella camera dei bambini del proprietario della casa, in quel momento la famiglia era fuori. All'interno le parti legno sono state divorate dal fuoco che è arrivato al tetto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pinerolo, Torre Pellice, Grugliasco e Giaveno. È arrivato anche il sindaco, i carabinieri della stazione di Cumiana hanno bloccato la strada per permettere il transito dei mezzi di soccorso, non interessata dalle fiamme la vicina chiesa. e Itani. Grazie a tutti.